Rischio chiusura per due impianti, migliaia di lavoratori del gruppo Whirlpool scioperano oggi per contestare il piano industriale italiano della multinazionale. Convocata una manifestazione a Comerio davanti ai cancelli del quartiere generale della società americana, andiamo allora a Gavirate nel Varesotto da Antonello Marzio. È il giorno della grande protesta che raccoglie lavoratori da nord e sud della Whirlpool di Comerio. Noi siamo proprio qui che è la sede amministrativa della multinazionale americana, siamo circondati dai lavoratori in particolare di Carinaro nel Casertano che è la zona dove si rischia di più. A fianco a me Marco Bentivoli, segretario generale della FIMCISL. Da poco avete concluso questo comizio, che cosa è emerso? Ma intanto è emersa un'Italia unita, l'azienda più che investire nelle soluzioni è investito sulla divisione dei lavoratori tra nord e sud, operai e impiegati. La risposta oggi sono stati migliaia di lavoratori da tutta Italia, è molto chiara. Non consentiremo di dividere i lavoratori e vogliamo che quello che vogliono chiamare come un piano di rilancio lo sia veramente con 2060 licenziamenti e quattro siti da chiudere è un bollettino di guerra. Un piano di rilancio prevede tutt'altro, prevede riequilibrio di produzioni e investimenti. A proposito di investimenti, qui nella zona del Varesotto ma anche in altri siti in realtà sul piatto ci sono 500 milioni di euro, più che altro per rimettere in gioco un po' tutto. Verrebbero in particolare qui nel Varesotto assunti degli operai ma licenziati poi degli impiegati? Sì, è assurdo. Infatti nessuno credo si debba sentire al riparo. Questi investimenti coprono solo una parte dell'insostenibilità di questo piano. Non bisogna mai fidarsi di un'azienda che la prima cosa che fa acquisendo un'altra azienda non rispetta gli accordi sindacali. Nessuno si fiderà mai di questa azienda per cui oggi anche gli impiegati, anche i siti che formalmente non sono interessati sono stati qui con noi compatti a manifestare contro questo piano industriale. Ultima domanda col segretario generale della FIM, prossimo incontro a Roma al Ministero martedì. Qual è la situazione e che cosa vi aspettate? Ma ci aspettiamo che l'azienda la smetta di arrivare al tavolo ministeriale con le mani vuote e la smetta soprattutto di dividere le organizzazioni sindacali e di dividere i lavoratori. Questo non glielo consentiremo mai. Bene, tutto qui da Comerio. Vi restituisco la linea. A voi Roma. Grazie.